Sono stati recuperati dal nucleo sommozzatori dei carabinieri di Messina nel mare davanti contro da Cannatello in territorio di Agrigento un ceppo mobile e una contromarra entrambi in piombo appartenenti ad un ancora di un'antica nave di oltre 2000 anni fa a seguito della scoperta il 20 luglio del ceppo e della contromarra da parte di Francesco Urso, BC Sicilia ha informato prontamente la soprintendenza del mare fornendo l'esatta posizione e chiedendo un immediato intervento in quanto i due importanti reperti di interesse archeologico risultavano in grave pericolo di trafugamento perché adagiati ad alcune decine di metri dalla battigia e a bassissima profondità.